Ciao giovani amici pescatori, oggi andiamo a vedere di Majorcraft gli artificiali, quindi un po' di tutto totanare, artificiali da trota, ma anche testine e assist e gomma e jig, insomma un sacco di roba super interessante che adesso andiamo a vedere insieme perché è in promozione con il 20%. Cari amici, allora voi sapete che a me particolarmente ma un po' a tutta la nostra azienda piace il prodotto di Majorcraft, ne approfitto intanto che parlo per far vedere qualche prodotto e lo conoscete soprattutto per le canne da pesca che sono eccezionali, hanno degli ottimi rapporti qualità prezzo, ma loro fanno una serie di artificiali molto ampia che però in Italia è ancora molto poco conosciuta mentre in Giappone è super popolare, sono andato su statuola in Giappone, i negozi erano foderati di questa roba molto usata dai pescatori. I prodotti di Majorcraft hanno delle peculiarità particolari, quindi vorrei guardarne insieme a voi e lo scopo diciamo di questa promozione è quella di far conoscere più ampiamente dal pubblico italiano la qualità dei prodotti di Majorcraft, non solo sui canne ma anche sugli artificiali. Andiamo a vedere qualcosa insieme, adesso vi faccio un tour dei prodotti che abbiamo disponibili e che troverete in promozione e voglio cominciare da una cosa che non è artificiale per esempio, voglio cominciare dalle testine, le jig para head che tra l'altro ci sono in due tipi molto interessanti, sono le testine estremamente ben fatte che nascono per un utilizzo marino diciamo, notate anche la pallina per trattenere l'esca, gli ami sono in altissima qualità, ce ne sono in variate misure e anche in due forme diverse, una più ovalizzata e una più squadrata e inoltre ci sono le dart type, ovvero le testine da darting che è una tecnica che ancora da noi non ha trovato ancora molto riscontro perché deve ancora un po' arrivare e ricordiamo che le testine da dart loro le fanno anche in dimensioni molto importanti, quindi occhio alla penna ragazzi perché qua c'è della roba che chi la sa usare e chi la userà prima degli altri sicuramente avrà modo di fare degli ottimi risultati. inoltre, inoltre aspettate perché quello che volevo dirvi è che poi a questo punto passerei alla gomma, vi faccio vedere un po' di gomma, perfetto. Allora, il PV Paraworm che è uno shad, ve lo faccio vedere in un colore così capisca meglio la forma, sono degli shad dalla testa tagliata abbastanza nettamente che sono ideali proprio per le testine da darting, ok, adesso qui ho una misura esagerata, però per farvi capire questa è la testa dello shad, questo è lo shad che gli va a seguito, ma questi possono essere tranquillamente utilizzati anche su testine round e normali senza nessunissimo tipo di problema. Hanno una gomma estremamente resistente, delle colorazioni particolarmente belle che a me piacciono molto e ci sono in varie misure, quindi andate a dare un'occhiata. Diciamo che c'è lo shad model che è la versione con la codina, ok, e c'è il dart model che sarebbe quello con la coda dritta, molto interessanti, vedete qua, dart model, molto interessanti, anzi quasi quasi, adesso se riesco ve ne tiro fuori anche uno che ve lo faccio vedere, perché anche la gomma è molto interessante di questo tipo di prodotti qua. Poi ragazzi se fate altre pesche non preoccupatevi che arrivo anche a voi, ci metto un attimo, faccio veloce, ma almeno qualche prodottino, vedete anche come sono confezionati in modo che non si rovinino assolutamente e tenete conto che questa roba qua, una confezione di paradart adesso è sotto i 6 euro. È della gomma tipicamente marina, quindi che vibra molto e che per esposare anche in acqua dolce, immaginate anche questo a drop shot con tutta questa vibrazione che ha, perché la gomma è abbastanza rigidina, ok, non è super molla e quindi garantisce anche il fatto che anche pesci con i denti, pesci un pochettino più aggressivi o comunque la gomma un po' più dura ha sempre questo tipo di vibrazione un po' più stretta, che è interessantissima secondo me, anche in acqua dolce soprattutto direi. Andiamo avanti, che se no mi perdo via 4 ore su un argomento solo. Allora, beh vi farei vedere questo prodotto da Native Trout che è veramente molto figo, che è il Fine Tail Eden, vuol dire paradiso. È un classico minno giapponese con la forma così a schiena, col piggyback dietro e che ha delle finiture molto belle, montate strabene a livello di ancorette. Sono perfetti peraltro per la questione torrente perché esiste una versione sink e una heavy sink, quindi sono artificiali da 5 cm ma pesano 4,5 grammi e 5,5 grammi e mezzo. Questi secondo me, per chi va a trote, devono essere assolutamente considerati. Sono molto belli, molto ben fatti, muotano molto bene e già l'anno scorso abbiamo visto che catturano di bestia. Fatemi pensare, cosa posso farvi vedere adesso? Adesso vi faccio vedere le totanare, così, un passant, perché le totanare hanno già avuto un ottimo successo. È vero che le totanare di Major Craft sono particolarmente costose in partenza perché hanno un sacco di caratteristiche molto fighe. Hanno il cestello con l'acciaio addizionato e carbonio fatto in Giappone, hanno la calza esterna che si chiama Akune Keimura, che è una calza di altissima qualità. Corpi in diverse colorazioni, finiture UV, il rapporto qualità-prezzo è comunque molto alto. Provateli perché questi qua a volte si vede, è un marchio in cui si fa più fatica a provare una totanare di un costo un po' elevato. Questa è una totanare a caretta, quello sconto diventa interessante. Dopodiché abbiamo dei jig per le pesche verticali, come per esempio, quindi sono dei jig da casting e dei jig per le pesche verticali. A volte alcune misure possono anche essere intese per entrambi gli usi. Per esempio i jig paraslow che partono dai 10 grammi. Poi vi faccio vedere un esempio, anche le colorazioni, buttate un occhio, guarda che robetta. Ma guarda questa, per esempio, che ha gli assist davanti che un po' disturbano. Infatti vediamo che quasi ve lo tiro fuori questo qua. Sì dai, così sennò non si vede niente. Allora, vediamo se ho un coltellino da qualche parte, non ce l'ho fra le dita. Allora, qualità delle finiture in particolare è veramente veramente tosta. Molto molto belle le esche, su quello non c'è dubbio. Ma sono esche molto usate in Giappone, quindi sono state molto affinate anche per quanto riguarda l'azione e tutto quello che gli va a seguito. Vi faccio vedere di cosa stiamo parlando. In questo caso è il jig paraslow da 60 grammi in una delle colorazioni live, che sono quelle più realistiche. Trovate tutti quanti i prodotti andando sul link che trovate qui sotto. Mi sono già piantato l'amo. Sono bellissimi anche gli assist. Guardate questo jig per esempio. Cosa non è? Ok? E' un jig paraslow di questo tipo, costa meno di 10 euro. Penso, vanno dei 6,80 e 9,60 scontati adesso. Ma è roba che non trovate di altre marche con questo livello qualitativo. Andiamo avanti perché ho altre robe a farvi vedere. Quindi poi ci sono di tante misure, dai 10 ai 60 eccetera eccetera. Quelli oltre i 100 grammi sono i classici jig da slow pitch, vengono venduti senza gli assist. Arrivano fino a 200 grammi, come un papagni anche di questo genere qua, quindi adatti anche a grandi profondità. E ci sono anche le versioni long. Molto, molto belle. Bellissimi questi per chi fa jigging e ha profondità in tirreno. Sono senza ami, però ci sono in promozione anche tutti gli zock. I zock guardateli perché sono tra i più belli e i meglio fatti assist al momento sul mercato. Già da qualche anno i giapponesi ne vanno matti, ne vendono tantissimi, ma raramente sono in promozione. Buttate un occhio, hanno una legatura stupenda e materiali di super qualità. Ci sono ovviamente anche tutti quanti i jig para da casting. Ve ne faccio vedere un paio, sono in particolare interessanti, vi farei vedere i micro per tutte le pesche super micro ultra light. Questo è il 3 grammi, questo è il 5 grammi, ma li fanno poi anche 10, 7, 10, 15, robe del genere. Sono una roba spettacolare sto qua, vorrei tirarlo fuori, ma non so se riesco a farvelo vedere bene in video. Perché guardate cos'è questa eschina qua, la tengo così magari che questo è un micro jig da 3 grammi. Ma vediamo se riesco a farvi capire che razza di finitura sono riusciti a fare su un jig di sta dimensione qua. È imbarazzante, imbarazzante davvero. È super figo, cioè nel senso che riescono a fare una finitura tra l'altro con un puntino di glow qua sotto su un jig di sta micro dimensione qua. Ultima esca che vi faccio vedere, dai dopo vi lascio, vi faccio vedere il Parablade. Il Parablade è un esca anche qui, ancora un tipologia, i blade in mare sono stati poco utilizzati. È un metal vibe allungato diciamo, no? È una roba di questo genere qua. E questo vi posso dire che è un esca che in mare troverà il suo riscontro. Oggi usata solo da alcuni specialisti, questa delle dimensioni di corpo è un rapporto con il peso abbastanza particolari. Questo è 55 mm, 14 grammi per esempio. Quindi si adattano in particolare a certe condizioni di acqua, soprattutto quando ci deve andare belli svelti e radenti il fondo. Belli, eh? Molto belli. Tutta questa bellissima roba la potete trovare già da subito nel mio store, boscolosport.com e la trovate già scontata del 20%. Quindi ragazzi fatevi sotto, dura finché dura. Se il prodotto poi non è più disponibile, non tornerà disponibile prima della fine della promozione. Per cui approfittatene, se vedete roba che vi piace sapete che la comprate, cioè praticamente 20% vuol dire che invece che prendere i 4 artificiali ve ne comprate 5 e vi costo uguale. Insomma non è proprio una brutta roba. Statemi bene ragazzi e alla prossima promozione. Bye bye! Ciao!